L'errore di Paladino Rall. Stacco della macchina, c'è Lotta per il comando, poi Pontebba lungo i paletti, prova a rientrare a tutti quanti. Veloce anche per Neri. 3-2 Cepai, KG, primi 200 in 13,4, allunga Pontebba sulla prima curva, serra sotto Planarza. Rimane così, aria in faccia per Neri, che offre la scia a Pai, KG. In terza parelle a Pichita del Cigno, poi Puera, Pule, PF, molto veloce dalla seconda fila, 28,4, i primi 400 metri. Da dritto per Neri ad attaccare Pontebba davanti alle tribune, dopo 600, 43,2, un ritmo non di questa categoria. E così, Pontebba e Perneri alle prese, avanti a Planarza, poi di dentro Puera, Pule, PF, Parisi, NMN. Il ritmo è davvero sostenuto per la categoria 59,2 metà gara. Si viaggia da 1,14 nelle retrovie Pandea e Neronco e Principessa Sofia, che provano la risalita in terza ruota. Intanto Pontebba completa il primo chilometro a controllare per Neri in 1,15,7, 16,5 questo paletto. Planarza nella sua scia, poi Pandea e Neronco in mezzo alla pista, che va a rifarsi tutto il treno esterno, trascinandosi Principessa Sofia. Arriva Pandea e Neronco al lato di Planarza e tenta la gancia con la leader, che completa il 1,32. In 1,31, un filo abbondante, Pontebba al comando, Pandea che l'attacca, Planarza le attiro, poi Principessa Sofia, che si lancia all'inseguimento quando si entra in retta d'arrivo. Pontebba che ha respinto Pandea in Neronco, Planarza che prova a venire via, Pontebba in avvantaggio, Planarza che sgabbia, il palo si avvicina per l'unplaine di allenamento. Con Pontebba prima, Planarza seconda, al terzo posto, Pandea in Neronco, 2-1 abbondanti, 30 a chiudere, 1-15,7. La media al chilometro, un cost-to-cost perfetto di Pontebba. E Antonio Velotti, la figlia di Concord Jet, che dipende con loro il signor Biagio Gallo, il training della connection Mediocalas, Giustino Cioci, al secondo posto, Planarza per l'unplaine, come detto, di allenamento, al terzo, Pandea in Neronco, utrice di ultimi 700 metri, mezzo alla pista, andiamo a rivedere. Le battute conclusive, 4-19 al totalizzatore, vince il numero 1, Pontebba, seconda, Planarza, numero 2, terzo il 9, Pandea in Neronco, 1-2-9, dunque l'arrivo ufficioso della quinta corsa di Taranto.